Siamo con il dottor Luigi Laterza, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega, a sostegno di Raffaele Fitto, candidato presidente della coalizione di centro-destra. Allora, dottor Laterza, intanto una sua presentazione. Chi è Luigi Laterza e i motivi per cui ha deciso di presentarsi alle regionali? Professionalmente sono un medico pediatra, svolgo l'attività di pediatra di base da 30 anni nel comune di Pulzano, perché da un punto di vista politico sono stato sindaco per due mandati, dal 1997 al 2006 a Pulzano, e da allora siedo in Consiglio comunale, avendo svolto diversi ruoli istituzionali dal presidente del Consiglio all'assessore. Sono stato anche per un mandato consigliere provinciale, sempre per il collegio Pulzano-Leporano-Faggiano. Perché la scelta della Lega? La scelta della Lega è una scelta fatta perché ritengo la Lega un partito di centro-destra che è sposa ed è omogenea a quello che è il mio ideale politico che ho sempre coerentemente portato avanti dal 1997 in poi. Anzi, credo che sia il partito che nel centro-destra interpreti meglio questi ideali. E poi c'è un motivo particolare. Io ho sempre ammirato come i politici della Lega si accostano alle problematiche delle persone, della gente, dell'elettorato. È sempre presente il politico nelle problematiche deviso, di persona. Ed è una cosa che io ho sempre apprezzato e quando ho potuto ho sempre fatto, anch'io ho sempre svolto così la mia politica. Quindi mi ha affascinato questo modo di fare politica.